Non so se l'ha vista abbastanza lunga, comunque almeno tre persone che voglio ringraziare per la loro presenza in sala le ho viste e quindi ringrazio innanzitutto l'avvocato Claudio Tani che insieme a Pozzi e Tesostri è stato uno degli apposatori del concetto. Poi ringrazio Massimo Gatti che è nascosto laggiù in fondo e che è stato per lungo tempo consigliere provinciale e poi devo dire c'è un uomo politico che mantiene le sue promesse perché mi aveva detto che non sarebbe venuto in prima fila e si sarebbe messo, non so se per timidezza o per altre ragioni, in fondo è il Presidente del Consiglio Comune di Milano Basilio Vizio. La parola a Gerardo Colombo, Gerardo Colombo penso che non abbia bisogno di presentazioni a Milano che lo conoscono tutti, a me interessa molto per un po' le due questioni, sono queste come molti di voi ricorderanno qualche settimana fa noi abbiamo avuto a un'iniziativa analoga questa con noi Armando Spattaro che è procuratore della Repubblica a Torino, quindi magistrato ancora in servizio. A cavallo della presenza di Spattaro qui a Milano è partita una polemica sul fatto se i magistrati avessero o meno diritto di intervenire su questioni politiche legate alla Costituzione. Gerardo Colombo non essendo più in servizio penso che possa essere molto libero nel dirci cosa pensa rispetto al punto alla possibilità che i magistrati in servizio intervengano su questioni come questa. E poi in realtà vorrei fare un'altra domanda che è questa, siccome ultimamente lui si sta occupando molto di quello che potrebbe finire una specie di apostolato laico, quindi di occuparsi di temi di legalità democratica con i ragazzi di scuole e siccome uno dei problemi che noi stiamo riscontrando in realtà nel rapporto con le persone normali e la difficoltà di avvicinare i giovani e di coinvolgerli su queste tematiche, mi penserebbe sapere che tipo di impressione hai e che tipo di ragionamenti, che tipo di approccio secondo te possiamo avere con le giovani generazioni per interessarli a questi temi, perché so che ci ritaglia praticamente quasi quotidianamente e quindi a te riesce, a noi riesce un po' di meno, qual è il segreto? Grazie. Allora, grazie. E poi potrei aggiungere un po' di meno. E poi vorrei aggiungere qualcos'altro? ma poco perché sembra veramente un po' così e magari quando ho finito quasi sento un pochino va bene, sono letto se no vi vediamo a vedere la stessa allora forse la questione dei magistrati era un pochino diversa nel senso che non mi guardava il fatto di poter esprimere un'unione ma il fatto di poter partecipare a delle iniziative come il comitato per noi che è una cosa diversa, quindi voi non lo sapete ma si è accecati da queste luci per cui non vi si vede e si fa pratica anche avere un feeling con voi che state sotto il primo profilo cioè quello della libertà di espressione da parte dei magistrati che non esista nessuna limitazione l'articolo 21 della costituzione che dice cosa dice per prima io sono un po' con la giornata mi piace l'uncita si chiama i luci come? non si chiama i luci non si sente non si chiama i luci l'articolo 21 io dicevo faccio un po' il provocatore questa cosa mi servirà un attimo l'articolo 21 dice che tutti possono esprimere liberamente il loro pensiero con qualsiasi mezzo di comunicazione non esiste una limitazione salvo che possa essere una limitazione funzionale non si può dire per esempio perché è rietato funzionalmente non si può dire quali sono state le opinioni espresse in camera di consiglio quando si tratta di decidere la sorte di un imputato ti deve vincere una causa ma qui sicuramente non siamo in queste situazioni è data parte dell'articolo 18 della Costituzione se mi ricordo bene perché ogni tanto il numero che a questo ora vado è quello che stabilisce che ciascuno di noi può associarsi liberamente cominciamo a entrare nel secondo aspetto è l'articolo 98 a conferma della libertà di associazione dice che può per legge essere rietato ai magistrati come ad altre categorie per esempio i militari diplomatici di ispirarsi a partiti politici ragione per cui io direi che delle limitazioni costituzionali la possibilità da una parte di esprimere la propria opinione con l'unico dall'altra di partecipare a una organizzazione come il limitato per il no a livello costituzionale poche limitazioni non ne esiste soprattutto se questo è fatto a livello personale perché poi per quel che riguarda invece una partecipazione a livello associativo io credo che esistano degli altri problemi che riguardano la rappresentazione primo uno che riguardano la rappresentatività di tutti coloro che partecipano a quella organizzazione ragione per cui mi pare che tra le varie organizzazioni chiamatele correnti chiamatele come volete della magistratura ci sia stato qualcuno che ha deciso di non prendere posizione come organizzazione proprio per questi motivi io peraltro che insomma dico quello che penso temo che alle volte questa partecipazione per esempio di una associazione di magistrati possa essere in qualche misura de responsabilizzante perché che cosa succede? succede che il singolo invece di pensare per se stesso insomma si affida all'autonevolezza della della corrente per dire per non approfondire il problema e non prendere una decisione per delegare insomma la propria decisione e che è una cosa che secondo me non è proprio del tutto in sintonia con un modo di far vivere la democrazia fino in fondo io credo che noi in questo paese abbiamo un problema grosso e il problema è costituito dal fatto che siamo più un paese di subiti che un paese di cittadini allora bravo la necessità di liberarci da questa condizione perché altrimenti ovviamente la democrazia non può funzionare democrazia che peraltro può funzionare io lo interpreto anche così l'articolo 1 della costituzione soltanto se i cittadini lavorano perché l'Italia sia una democrazia l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro dei cittadini per fare in modo che l'Italia sia una democrazia poi certo il lavoro inteso in senso proprio e poi il lavoro e non la rendita e così via ma sicuramente è necessario che i cittadini facciano la loro parte e per fare la loro parte è necessario che i cittadini si impegnino e si impegnino anche direi prima di tutto perché è il primo passo sotto il profilo della conoscenza sotto il profilo della conoscenza allora se noi affidiamo la conoscenza ad altri e ci limitiamo a ricevere quello che altri che dicono di conoscere che magari conoscono effettivamente senza svolgere il nostro spirito critico non siamo una democrazia allora primo punto secondo punto credo che sviluppo questo e poi vado secondo me però perché possa realizzarsi questo è un importantissimo aspetto quello dell'adolescenza io credo che sia necessario sentire di luci e allora mi domando se non sarebbe il caso tutte queste manifestazioni di farle in contraddittorio con l'altra parte anche perché in questo modo noi potremmo tralasciare degli aspetti scusatevi il termine non ne trovo un altro e quindi lo metto tra molte virgolette degli aspetti propagandistici per entrare nel vivo del tema io credo che sarebbe assolutamente necessario anche perché io credo che se noi questa riforma la prendiamo in blocco la mia opinione personale è che ci sono troppe cose che non coincidono con la mia idea di costituzione e di democrazia ma se guardiamo situazione per situazione si cambiano tutti i 40 articoli no? si si aboliscono le province si abolisce i tunnel si modifica sostanzialmente molto sostanzialmente il senato si modificano i rapporti tra stato e autonomie locali nel tema della appunto delle autonomie e magari c'è qualche cosa che potrebbe anche andare bene io per esempio lo scrivevo quasi dieci anni fa otto anni fa la mia opinione era che le province andassero a pulite e lo penso ancora adesso bisognerebbe però poi farsi carico di distribuire quel che le province le province le province lasciano per dirne una ci sono anche delle altre delle altre degli altri aspetti che il presidente perché credo che sia il presidente della regione non sono i singoli membri che non possono guadagnare i consiglieri che non possono guadagnare più della del scusate perché come vi dicevo no per guardare legger più del sindaco capoluogo di regione non mi sembra una misura una misura sbagliata allora già questo aspetto è un aspetto che toglie ai cittadini la possibilità di valutare situazione per situazione caso per caso e secondo me impedisce un vero esercizio un esercizio diciamo puntuale no della potestà referentaria perché il dibattito perché attraverso il dibattito di giusto si può arrivare a conoscere io poi passo all'altro aspetto che è quello delle scuole che però è strettissimamente collegato a me piacerebbe non ditemelo perché potrei essere euforico cioè la vostra risposta potrebbe provocare euforia ma potrebbe anche deprimervi in un modo forse irreversibile e sì perché a me piacerebbe sapere quanti di coloro che in una platea così qualificata questa perché si tratta di persone che sono venute a sentire parlare di questo tema quanti conoscono effettivamente le disposizioni che la legge costituzionale modificherà guardate questo problema era un tema questo che bisogna affrontare perché la domanda che mi ha fatto successivamente è quella ma nelle scuole cosa succede nelle scuole in Italia la costituzione non è giusto quasi purtroppo è così ma in Italia non soltanto la costituzione in Italia non conosce noi della nostra età ma i giovani ne vedono veramente molto pochi poi ci sono magari ecco è stata alzata una mano ammesso che tutti abbiano una mano in questa ce n'è una giovane a parte chi ha la nostra età non si conosce nemmeno la storia di questo paese la storia di questo paese non la storia d'umanità questo paese nasce 150 160 anni fa quel che l'è i ragazzi possono arrivare la malapena alla guerra fredda ma tutto quello che riguarda la loro vita di oggi e non la conosce quasi nessuno succede veramente non è una che chiedendo chi ha messo la roma di casa fontana vi ha risposto le brigate rosse e si arriva anche voi oltrami ma è veramente oltrami che riguardano i adulti perché loro poveretti i ragazzi allora per riuscire a comunicare con i ragazzi bisogna che i ragazzi siano considerati io ho paura che ancora una volta ancora una volta perché nella scuola così secondo me generalmente poi ci sono tantissime eccezioni ma i ragazzi sono considerati degli spettatori che sono chiamati a vedere quello che fanno gli adulti a sentire quello che fanno gli adulti a rispondere a dire a dare agli adulti quello che gli adulti pretendono da loro senza essere parte del prima parte dell'articolo 3 della Costituzione tutti i cittadini hanno la parola dignità dignità questa parola dignità e ragazzi non sono dignità li si educa li si istruisce ad essere subiti li si istruisce a dire tu ti prendi quello che ti dico io e a un certo punto si stufano e allora si stufano ma non vanno da nessuna parte dove il rapporto è quello ma quante cose dobbiamo cambiare no anche anche questo stare qui così in alto è immediatamente funzionale perché è funzionale alla tenibilità di quello che diciamo guardate come siamo fatti poi si poi se li metto le mani sul fianco e spro un po' il eh ma bene la prossima al centro commerciale un sacco di insegnanti nel frattempo perché ci sono insegnanti però io non sto parlando di voi che siete qui sto parlando della scuola in generale poi ciascuno di noi ha un po' che responsabilità no io ho fatto magistrato per 33 anni ne ho avuto qui responsabilità sul funzionamento della giustizia volente o non per te ho partecipato a quella amministrazione fino a quando ho deciso di andarmene perché forse serviva dal mio punto di vista qualche cosa da un'altra parte allora i ragazzi hanno una grandissima voglia di cui voglio ci venire ma veramente ce l'hanno una grandissima voglia di cui voglio ci venire e io l'ho postato tutti i giorni perché bene o male nelle scuole se non ci vado tutti i giorni quasi è veramente raro rarissimo che non siano disponibili a non ascoltare purché però e dall'altra parte si sia disposti ad ascoltare loro e noi questa abitudine secondo me ce l'abbiamo molto poco sarà per via del fatto che il parco parlava l'ex catroca sarà per via del centralismo democratico dall'altra parte e sono tutte queste cose qua ce ne abbiamo poco l'abitudine a confrontarci tant'è vero che in questa campagna referendaria ci sono due parti che parlano ciascuno per quanto loro allora invece io credo che sia proprio necessario entrare in contatto e sia necessario parlare nel tempo parlare nel tempo che vuol dire farsi delle domande darsi delle risposte ma farsi reciprocamente anche delle domande cercare di riuscire a capire la risposta dell'altra perché per quanto noi io parlo generalmente proprio delle persone noi abbiamo partiamo di solito da un atteggiamento io parlo di tutti parlo anche di me perché è difficile liberarsi da un atteggiamento di supponenza cioè prima abbiamo ragione prima abbiamo ragione e poi viene tutto il resto e magari non è così magari non è così allora torniamo perché volevo dire qualche cosa anche a proposito di questa legge costituzionale dicevo ci sono delle cose che a me andremo bene parlavo dello sorpede parlavo del il fatto che si riduca un po' forse anche la camera dovrebbe subire una qualche dieta di magari sarebbe però necessario che sia una io lo strido anche quello io ero credo di essere abbastanza indirizzato verso un'abolizione di tutto che il senato perché secondo me il costituente a suo tempo aveva cercato di rendere le due cani differenti affidando la stessa competenza l'età per le legibilità l'età degli elettori ma non soltanto quello oggi le differenze sono veramente minime ma soprattutto oggettivamente secondo me manca un requisito che invece era allora presupposto e cioè che nel Parlamento si parli che nel Parlamento si parli oggi cosa succede? Succede che alza la mano il capoculpo ma non sanno neanche delle volte per carità non si sa neanche su questo che cosa si vuole allora io credo che sia necessario in qualche misura adeguarsi anche alla cultura però cercando contemporaneamente di fare in modo che questo adeguamento non impedisca anzi agevoli di recuperare quello che si è perduto io ho i miei problemi maggiori riguardano il sistema elettorale poi ce ne sono altri problemi che riguardano la definizione della competenza il rischio forte fortissimo che volendo rendere più abito il corso dell'approvazione delle leggi invece lo si ritardi proprio per via di conflitti di attribuzioni di competenza valutare mi domando in certi casi esiste la sanzione per il mancato rispetto dei termini previsti per voi sapete benissimo perché avete letto dei termini per l'approvazione delle leggi in alcuni casi la sanzione cioè la conseguenza cioè se il senato per esempio non eserci il terreno non è determinato tempo la legge viene comunicata eccetera in alcune circostanze invece non succede allora se il termine è ordinatorio cioè se il termine è un termine che se lo superi non succede niente è anche inutile star via modificare la costituzione per insieme di un termine che non serve il problema della dell'accentramento noi abbiamo visto che molto che succede che magari le regioni usino il loro potere in un modo non del tutto coerente con le finalità ma anche poter accettare per volte succede che non c'è lo stesso e allora io ho varie già io voterò no per questi motivi un altro aspetto che non sia mai stato forse non l'ho mai sentito sicuramente sarà stato sottolineato questi consiglieri regionali che contemporaneamente fanno il consigliere regionale e il senatore vuol dire che oggi hanno così tanto tempo libero da poter fare anche il senatore e se hanno così tanto tempo libero forse o rimuovili o fatti fare le altre cose a livello regionale che ne so tutto questo vi stavo dicendo però vorrei tornare un pochino indietro perché io credo che sia proprio estremamente importante che perché funzioni in questo paese si cerchi di modificare la cultura proprio proprio il modo di il modo di intendere la relazione con l'altro allora i ragazzi i ragazzi adesso molto spesso sono abituati a parlare in 150 caratteri 140 caratteri è necessario riuscire a far capire le cose in 140 caratteri in 140 caratteri tu riesci in modo estremamente facile a dire che i senatori da 315 diventano 100 è estremamente facile dire che i senatori non saranno più pagati non avranno più un compenso una identità è molto più difficile dire che però tutto il meccanismo che sta dietro ai 315 rimarrà all'interviato è molto più difficile dire è molto più difficile riuscire in 140 caratteri a far capire come il sistema complessivo della riforma costituzionale e della riforma elettorale per la Camera porterà a quelle chiamate strutture insomma a quella consolidazione di potere che è esattamente il contrario di quel che la nostra costituzione vorrebbe e se passa la riforma avrebbe voluto è difficile e però bisogna attrezzarsi per farlo e allora magari magari proviamo delle volte a mettere da questa parte del tavolo e invece di trovarsi davanti delle persone dai 70 anni grazie che sono discutiti per gli altri interventi Gerardo Colombo e adesso la parola Massimo Villone che è presidente del comitato per il sì al referendum approgativi dell'Italicum è ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di studenza dell'università degli studi di Napoli Federico II ed è il collettore del ribaltimento di diritti dell'Università dell'Università di Napoli ha tantissimi altri titoli io è stato senatore gli do la parola e chiedo che la cosa più importante sia il suo intervento prego la verità siccome sono vendito all'archeologia costituzionale qualche titolo lo penso perché sono per limiti di età lo penso il servizio non si capisce vogliamo provare quello? come va questo? ok allora sì dicevo dicevo in qualche titolo l'ho perso per un giorno dell'età e quindi ora sono dedito all'archeologia costituzionale sono solo professore merito uno di quei professoroni che le insieme a tanto perché mi dice e questo mi fa venire a mettere quello che diceva Pierpaolo in apertura sulle sulle classificazioni che faceva Pane Bianco sul Corriere della Sede era Pane Bianco è bravo Pane Bianco toccato che ne dimentichi sempre una fuori di casella che quella dei cretini doveva mettere se stessi questo è un lungo per quale mi sento di risentire allora noi siamo purtroppo in politica costretti a fare quello che c'è da fare non è che possiamo decidere cosa fare e come la politica spesso non mi consente e noi siamo noi che difendiamo la costituzione ci opponiamo a questa devastante modifica in realtà ci troviamo in queste condizioni perché la partita l'hanno cominciata gli altri io vorrei che ci ricordassimo sempre questo non siamo stati nuovi quando tra l'altro molti mesi fa e questo lo voglio dire perché agganciando quello che dicevano i compagni dell'ABI noi ci incontrammo in Roma come coordinamento per la democrazia costituzionale noi discutemmo quale fosse la strategia da opporre a queste iniziative e ovviamente la strategia non era quella di un negrezzismo a fascinare che sarebbe stata una cosa molto sciocca quindi tutte le cose sono state pensate e provate cercare la discussione come diceva adesso Gherardo Colombo ma l'abbiamo sempre cercata ma si è sempre stata rifiutata non è che non abbiamo parlato non c'è stata nessuna disponibilità ad ascoltare io sono andato personalmente ho partecipato personalmente a non so più quante audizioni nella Camera del Senato ho chiesto più volte alla Ministra Boschi Ministra ma perché insistite per esempio sul carattere non elettivo del Senato con certe forme particolarmente inaccettabili dell'Italia come così via ma credete voi che mi ha dato mai uno straccio di risposta mai mi ha dato quel blando sorriso da Madonna che bevi il TV che può essere anche un argomento per carità e dopo di che ovviamente era possibile avere più questioni separatamente adesso c'è una parte dei miei colleghi bellissimi autorevoli colleghi che si sono inventati questa cosa dei quesiti parziali ma noi non vogliamo un quesito uno tutto sì tutto no come diceva come è giusto anche concettualmente diceva che adesso vorrebbe poter dire questo mi piace e questo non mi piace anche a me piace quella norma che dice consigliere giornale gli togliamo i soldi dalla saccoccia bellissima e però non è dato purtroppo e vedete perché non è dato ma non perché non sia tecnicamente possibile ma perché non funziona politicamente non funziona intanto il tutto sì tutto no è funzionale al plebiscito pro Renzi contro Renzi perché è chiaro che voi il plebiscito non lo potete mica fare a fettine ecco là avete bisogno del bianco e del nero quindi è evidente che dal primo momento siccome questa cosa Renzi mica si era trovata adesso ma ce l'ho io in testa e gli ho scommetto dal primo minuto era evidente che tutto doveva tenersi e per di più doveva tenersi perché passava attraverso un patto politico che era quello con Berlusconi cosiddetto patto del Natale dopodiché quando voi fate un patto il patto cammina tutto intero perché io non faccio un patto con un altro mettendo poi a rischio la cosa che interessa a me facendo voti separati adesso e voti referendari separati domani il patto lo faccio se dentro c'è tutto quello che interessa a me tutto quello che interessa a lui e insieme affrontiamo il problema del voto parlamentare e del voto popolare se no non mi faccio mica fregare io ti do il mio consenso poi tu mi togli il tuo io prendo le mie cose e tu ti prendi le tue e così che funziona perché credete che si sono fatti questi mega segni di riforma della costituzione che palesemente non hanno nessun senso tecnico perché meglio sarebbe fare piccole riforme mirate perché se no politicamente non si riesce a gestire la riforma e quindi non c'è nessuna possibilità di avere sicure di questi separati riformi ma a parte questo anche tecnicamente non regge perché l'argomento che regge è questa cosa di quesiti separati sapete qual è quello di dover osservare il principio dell'omogeneità del quesito stabilito alla corte costituzionale si dice ma l'elettore ha il diritto di votare per un quesito che sia omogeneo in relazione al quale possa orientarsi o tutto per il sì o tutto per il no giusto perché se no si deve dare libertà di voto perché se io ho un quesito per il quale propota voglio dire sì o no e però io un solo sì o un solo no devo dire quindi per una parte sarò portato e quindi non sarò libero nel voto ma questo vale per il referendum abrogativo e perché vale per il referendum abrogativo perché il referendum abrogativo può essere parziale perché ovviamente se il referendum è totale non ha più senso parlare di omogeneità necessaria perché se il requisito è totale tutto io tutto no non esiste più il problema dell'omogeneità per definizione lo è è tutto è chiaro quindi la omogeneità del requisito necessario deriva dalla possibile parzialità del requisito perché l'articolo 75 dice che si può fare l'abrogazione parziale l'articolo 138 non lo dice non parla di parti della legge dice che la legge si approva la legge costituzionale si approva se si approva con la maggioranza assoluta con i commenti di potersi può essere chiesto il referendum stop e la legge 152 del 70 che è quella che disciplina il voto referendario quella che applicheremo adesso a ottobre che vedremo applicato a ottobre all'articolo se non sbaglio 16 scrive testualmente il requisito in questo senso volete voi che sia approvata la legge votata il giorno tale dalla Camera il giorno tale dal Senato volete voi che sia approvata la legge sta scritto proprio così il testo del requisito se oggi uno va in Cassazione e deposita un requisito che dice volete voi che sia approvata la legge per quanto riguarda l'articolo 1 2 3 4 la Cassazione dice di no dice che è legittima perché sicuramente in contrasto con la legge del 159 quindi tutto questo è una grande esercitazione filosofica ma lascia le cose come stanno noi a ottobre andremo a votare tutto sì o tutta noi la battaglia è questa questa battaglia bisogna combattere ci piace o non ci piace proprio che questo sia chiaro perché qualunque formula diversa da questa battaglia può indurre qualcuno un orientamento un perplesso beh vabbè ma allora se si potesse allora noi potremmo beh allora quasi quasi voto sì no questa porta va giusta perché non ci possiamo permettere di lasciare nemmeno un piccolo spirale aperto ora perché bisogna andare a tutta a tutto vapore perché vedete quello che accade ci dice che a palazzo Ingi monta la preoccupazione palesemente quello che è accaduto è che Renzi voleva pensava il giovanotto arrogante di uscire beh il giovanotto sicuramente non è arrogante pure quindi si è messo pure vicina per l'informazione che non altro la perdere quindi la perdere e allora che cosa cosa pensava Renzi lui pensava di uscire e praticamente di stenderci tutti perché questa era l'idea no che lui vinceva stravolgeva tutte le resistenze si rivolgeva al popolo il popolo lo sannava e insomma a quel punto tutti a casa e invece non è andata così quello che sta accadendo ed è già in parte accaduto era inatteso io ci commetto quello che volete per Renzi era inatteso era inatteso che cominciasse invece a serpeggiare un sentimento contrario allo stravolgimento della Costituzione ed era inatteso per noi perché io penso profondamente convinto che Renzi e la Costituzione non capisce cosa è non sa che si non ce l'ha in testa perché non ha la sensibilità di un uomo di Stato e di un uomo delle istituzioni lui ha la sensibilità ha la sensibilità del barone del mercato del pisce perciò adesso è meravigliato che ma come la gente non mi segue no la gente non mi segue perché nella Costituzione sente che c'è qualcosa ed ecco che monta diciamo l'attacco monta la virulenza degli insulti delle visioni monta l'attacco all'ambi l'attacco all'ambi nasce così vedete qua i compagni dell'ambi sono stati bravi pacati e sereni perché sono persone per bene ma quello meriterebbe insomma questa cosa meriterebbe risposta ben più aspre ben più aspre perché queste risposte questi attacchi sono venuti per il fatto che secondo un certo modo di venire secondo la ministra Poschini quando dice i veri partigiani votano sì ma come si permettono questi di disobbedire invece di prestare omaggio al capo questa è la cosa che sta dietro che ci sia un'associazione di donne e di uomini liberi non gli sta bene a Palazzo Miggi e io questa cosa la scrivo domani su un manifesto che non le dico a voi ma le dirò su una notte un po' più ampia perché vanno dette vanno dette con le parole dure che meritano questi comportamenti che non bisogna pensare non da parte dell'ampia perché sennò poi no 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 diciamo dagli amici devono essere gli amici dell'ampia a parlare per l'ampia non deve essere l'ampia che sennò può dare l'impressione che fa la battaglia personale di chi sta di chi sta diciamo nei posti nei posti di comandare quindi con la necessaria durezza con tutta la convenzione utile continuare a dire che questa riforma è una cosa immangiabile come è nei suoi punti fondamentali nei suoi punti fondamentali perché fondata sulle forzature sulle maggioranze occasionali sul tassista Verdini che ha fatto l'inzachettatore di Volta Cabana su questo già questo la rende inaccettabile diciamo perché non si può pensare di costruire una costituzione per il futuro dell'Italia in questo modo pensate noi passiamo alla costituzione della resistenza nata dalla resistenza a questi stanno ma vi pare possibile palesemente non e quindi fondata poi sulla mentogna questa storia la cosa che ci tendiamo a dire si riducono i costi della politica guardate qua bisogna essere chiare i costi della politica con questa riforma questa storia del senato si ridurranno di spiccioli perché le spese dell'istituzione voi potete andare a vedere questa cosa dai bilanci che sono pubblici sono la minorissima parte spese di immobili di servizi e di personale le spese dell'indennità sono la cosa minore saranno il 15% il 20% su questo bisogna scalare che il senatore del bar dello sport quello di seconda scelta che viene a consiglio regionale non è mica a posto zero e lo dovete portare a Roma avrà una diaria avrà una missione dovrà mangiare oppure si porta il saccappello e il panino alla casa è chiaro che avrà un costo di funzionamento e di permanenza e di trasferta al Roma quindi diciamo che i risparmi si abbassano ancora se si fosse fatto un senato elettivo di 200 e una camera di 400 come ci stanno in tante proposte di sinistra di destra e di centro sarebbero stati 600 i parlamentari invece 730 e i risparmi sarebbero stati matematicamente maggiori per forza allora qua qualcuno si vede di proprio ma allora perché perché tutta questa comunicazione perché quello che si voleva colpire è la rappresentatività dell'istituzione del Parlamento perché tu non puoi pensare che sia forte rappresentativa una camera come il senato che è stato costruito voi pensate per esempio si dice ma quella è la camera delle regioni no? questo è un altro argomento quindi noi facciamo e rafforziamo l'istituzione del Parlamento perché facciamo finalmente questa cosa che tra tanto tempo volevamo fare ma ragionate con me i numeri ci dicono 74 senatori e ventuno da consiglieri senatori cioè eletti dai consigli regionali e ventuno sindaci uno per ragione più le polizie del depozzale ci siete? seguite? allora dieci regioni in Italia avranno due eseggi senatoriali ciascuna uno però è riservato a un sindaco perché questo dice la legge del Siboschi allora per dieci regioni il consiglio regionale eleggerà un consigliere senatore che sarà eletto in uno dei collegi della regione che è un piccolo collegio infrarregionale nel quale questo continuerà a fare politica e curerà la sua carina pensate che quel singolo senatore rappresenterà la regione mi sembra plausibile pensate che quel singolo sindaco rappresenterà i comuni della regione se siete conti che poi il consigliere non andrà ormai il sindaco di Milano che sarebbe ovviamente un antagonissimo competitore qual è l'ultimo sperduto paese della Lombardia più piccolo di tutti qual è che manderanno il sindaco di quel paese lì non so quale sia o stima di quel sindaco chiunque sia manderanno lui a fare il senatore perché sarà del tutto in ovo allora questa è la rappresentanza che voi avrete in questo senato e per di più sarà un personale politico che è quello che sappiamo ieri a Bergamo Renzi ha fatto un'elegante citazione delle mutande verdi l'avete letto? no non l'avete letto ha fatto questo discorso e chiamato per dire la riforma la riforma la riforma ha detto io se no mi ne vado bla 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 e poi ha citato il caso dell'acquisto delle mutande verdi cota consigli regionali spese pazze e lui ha elegantemente citato questa cosa dicendo che siccome si tagliano i costi si tagliano anche i costi però non ha accolto dire lì in un passaggio che i personaggi che lui vuole mandare in senato sono quelli che comprava le mutande verdi non solo perché adesso comprerebbe le mutande verdi con la copertura delle prerogative costituzionali sugli arresti e le intercettazioni e le requisizioni ma le abbiamo mandato e questo è il senato di Renzi allora si poteva fare meglio sicuramente ma si poteva fare meglio quella legge tornata è stata già detto ma scusate di fare possibile che con una sentenza della corte costituzionale che la 1 del 2014 che dichiara il legittimo scelto ma perché c'è una disproporzionalità eccessiva questa è la formula che usa la corte tra i seggi i voti concretamente i voti reali i voti consensi conseguiti e i seggi attribuiti per cui pochi voti molti seggi per la mancanza di una soglia prima di maggioranza questo è diciamo un argomento della corte e poi per la libertà di voto le liste bloccate no questa è la sentenza della corte e il legittimo che fa sostanzialmente riproduce entrambi questi pizzi sul primo apparentemente lo supera quello della mancanza della soglia perché prevede una soglia del 40% ma a parte che il 40% significa un premione maggioranza come capite perché con il 40% poi si arriva ai 346 quindi largamente oltre la maggioranza assoluta ma il problema è che in un contesto tribolare come quello che abbiamo il 40% non si arriverà nessuno quindi in realtà lo scenario vero del funzionamento dell'Italico è quello del pallottaggio e al pallottaggio si va senza soldi i primi due qualunque sia il livello di votazione i voti avuti vanno a pallottaggio e di questi primi due chi avanza di un voto vince è stato giustamente citato il caso di Ponsano insomma di pallottaggio è un meccanismo perverso che sicuramente come dire apre la possibilità la prospettiva potenziale che si può dire ma quello non succede ma nemmeno quello che non doveva necessariamente succedere anche lì si è dichiarata la ricostituzionalità di una possibile di un possibile esito elettorale e che cosa può succedere con partito con pochissimi consensi reali che rappresentano una piccola frazione del corpo elettorale ha una maggioranza assoluta garantita e può persino dispondere della revisione della Costituzione raccattando qualche appoggio del Senato comprandosi un po' di sindaci e un po' di consigliere cosa facilissima da fare per chi dispone alle risorse in una legge finanziaria perché e questo poi questa maggioranza militare da chi ha fatta da persone di fiducia del ministro del leader del partito perché dispone dei camministi ma non finisce lì perché bisogna capire la cosa come funziona perché in realtà i camministi si possono camminare in dieci malate dieci circoscrizioni solo i camministi queste sono le piccole cose che poi uno deve andare a capire perché se no allora io segretario del partito mi sistemo il capolista quello è votato insieme alla lista quindi è voto bloccato non ci esprime la preferenza per il capolista è votato di giù con la lista poi che faccio mi cessisco i secondi nelle circospezioni che lui lascerà perché siccome è candidato in dieci una delle miliardi e nove ne lascia allora qual è il mio obiettivo il capolista tranquillo mi devo miliardi altri nove e come faccio a miliardi altri nove semplice perché siccome le liste sono corte perché abbiamo liste corte con le le liste corte perché se no la commenta così si conoscono i candidati sì ma così si pregano anche gli elettori perché io faccio la lista corta io so che dare il partito mi serve di individuare il secondo che deve andare con la preferenza ne devo mettere 4-5 uno è sicuro il capolista allora che faccio metto uno buono e metto tre scartine quello che mi interessa buono lo metto e si mi darà la sua preferenza poi metto tre brave persone metto la massaglia lo studente universitario piglieranno qualche centinaia di volte utile alla lista a rivederci grazie e così si fa perché voi pensate veramente che queste cose non si pensano prima non pensate mica che accadano per caso dopo e no in questo modo un segretario di partito non dico nizio cazzo che si chiama diversamente può garantirsi la gestione il controllo praticamente salvo eccezioni con pochi errori proprio i casi straordinari quando ho sbagliato non ho capito c'è stato un caso localmente che mi ha mandato una cosa per anni ma a parte questi casi io sono in grado di controllare tutta una rappresentanza parlamentare con persone mie partendo dai gabinisti al procato e altri genti secondo questo è l'italico questo è l'italico dopo di che quello è un parlamento no 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 l'anacataboba un parco boi il recinto degli schiavi il parlamento sicuramente no è questo che vogliamo no questo non si può accettare è questo che volevano i nostri i nostri padri quando facevano la lotta al fascismo penso va bene hanno ragione i compagni e l'ambia a dire che questa roba non la vogliono buttare giù hanno mille volte ragione difendono la propria dignità e cosa possiamo fare noi per aiutare loro e per aiutare noi stessi guardate è semplice io mi sono sentito dire molto spesso in questa settimana che sono passato a girare per il paese ma non ce la faremo mai non c'è speranza non c'è speranza per il fatto che la speranza c'è i prefiri sondaggi cominciano a dimostrarlo e la messa a boschi cominciano a dimostrarlo che è sempre un po' geniale ma quello che io dico i nostri padri e per qualcuno di noi veramente sono stati i nostri padri le nostre madri si sono trovati in un periodo storico che è quello del ventennio fascista in cui ogni mattina che si alzava il sole loro non avevano idea se la privazione della libertà in cui si trovavano avrebbe mai avuto fine per quello che sapevano poteva anche non finire per quello che sapevano poteva anche durare tutta la loro vita poi non è stato così perché la storia per fortuna ha girato